Azienda in salute grazie al risanamento portato avanti, sostenibilità ambientale, raccolta differenziata in netto aumento, progetti presentati e approvati dal Ministero, obiettivi increscendo anche per diminuire ulteriormente la tassa rifiuti per l'Asia di Benevento che con il suo manager Donato Madaro si confronta con gli esperti del settore per centrare nuovi e raggiungibili traguardi in tema d'efficienza del ciclo dei rifiuti. Siamo alla terza edizione del focus, abbiamo soltanto un anno per il covid, è un momento molto importante come diceva lei perché abbiamo in itinere molte cose da fare soprattutto sul completamento della filiera impiantistica, abbiamo approvato questo impianto sulla linea B della parte impiantistica per 3 milioni e 2 che realizzeremo nell'impianto Exlaser a Contra d'Olivola, ovviamente è in capo al comune ma il soggetto insomma la progettazione è stata realizzata ad Asia e insomma l'ospicio che poi possa essere gestito da noi e va a completare un pezzo di parte insomma di raccolta differenziata che dove le performance aziendali sono importanti abbiamo siamo al 67 per cento di raccolta differenziata ma soprattutto con un tasso di riciclo molto alto perché siamo al 57 per cento contro una media europea del 55 quindi diciamo che ciò che l'azienda e la città differenzia lo differenzia anche bene per cui differenziare bene e non avere poi un'impiantistica a valle di supporto è un fatto chiaramente poi che penalizza le tariffe perché la tariffa per poterla diminuire ha bisogno che poi ciò che viene raccolto e viene raccolto bene possa essere poi effettivamente recuperato e trattato nell'ambito del ciclo. Ovviamente non basta questo poi è necessario che l'ente d'ambito proceda con l'implementazione dell'altra impiantistica di supporto quindi mi riferisco all'impianto dell'organico che dovrà essere appunto necessariamente previsto da realizzare come parte pubblica a Casalduni e soprattutto la riattivazione dello stir perché nella parte indifferenziata se vogliamo anche lì ottimizzare le tariffe dobbiamo necessariamente non viaggiare con questi rifiuti su Tufino e Avellino ma averli insomma è un posto è una zona più in discorso in una logica di prossimità e quindi il rifiuto di viaggiare il meno possibile deve essere recuperato laddove viene prodotto. La penetrazione ha avuto un buon esito perché noi sul rione ferrovia dove abbiamo sperimentato abbiamo avuto un buon risultato tale da poter andare a industrializzare diciamo il processo e siccome insomma il costo dell'investimento è insomma abbastanza elevato abbiamo presentato anche lì un progetto in ambito PNRR i cui risultati dovremo saperli entro la fine dell'anno quindi questo va sulla linea insomma del completamento della parte della raccolta differenziata e abbiamo unito diciamo alla parte della tariff anche il fleet management che diciamo una razionalizzazione della logistica del servizio e della raccolta con insomma minore impatto ambientale, minore consumo di carburante quindi minore emissioni di polveri sottili di COD in atmosfera che è un altro elemento importante come indicatore di performance ambientale. In questo momento di confronto è anche un momento per capire quelli che sono i cronoprogrammi nell'ambito del PNRR, avremo insomma cassa così appresti, abbiamo insomma vari interlocutori che ci faranno capire anche meglio quelle che sono un po' le tempistiche e sulla tariff dobbiamo, l'auspicio è che possa essere approvato che progetto altrimenti dovremo trovare poi se non dovesse andare male dovremo trovare delle fonti alternative che anche lì dal confronto di oggi potremo anche attingere della finanza di progetto differente rispetto a quella del PNRR. Noi siamo un lato come avete visto registrato da parte Lega Ambiente il migliore in Campania la città di Avelino è al secondo posto ma siamo a un punto quindi io sfotto un po' l'amministratore che essendo di Avelino che forse lui gioca a fare in maniera tale che Avelino ci superi per quanto ci riguarda, spero il prossimo anno di superare o di fare una concorrenza leale con gli amici della città di Avelino. Insomma siamo in quota molto alta rispetto a altre città della Campania e questo soddisfa diciamo noi che siamo con i quali nella governanza della città hanno anche la governanza dei rifiuti e devo dire ho fatto i complimenti all'attività dell'amministratore, del gruppo dirigente, tutti quanti gli operatori ecologici che si trovano e anche i cittadini che collaborano e devo collaborare ancora di più, ognuno di noi deve testimoniare con sensi di responsabilità quello che bisogna fare per convivere con modalità di qualità dei servizi che vengono utilizzati, sfruttati ed evitando inciampi a coloro i quali sono gli operatori che ogni giorno passano e giro per la nostra città. Siamo confortati quindi dai risultati finali, l'azienda va bene, registriamo anche un incremento di occupazione stabile finalmente, l'altro giorno i primi 30 sono entrati che entreranno ancora altri successivamente, insomma questo dà un esempio di vitalità. La mia opinione è che la provincia Presidente possa diventare un modello di riferimento perché è una provincia piccola come tale pone tutte le condizioni in essere perché insomma siamo da modello e di riferimento le equitazioni sono molto alte per quanto riguarda lato nulla da invidiare credo alle città o alle province del nord e quindi su questo bisogna andare avanti con uno sforzo molto saggio molto responsabile e molto deciso. Come provincia sono soddisfatto perché la stessa Samt credo che nel giro di un mese e due andrà in bonus e ci auguriamo che possa essere il braccio operativo anche dell'ente d'ambito. La regione ha mantenuto la promessa del finanziamento dello stir che prevede nella progettazione anche un sito stazione di trasferenza, anche l'ente d'ambito ha approvato un preliminare ma che deve essere un definitivo esecutivo che ci consente anche di poter intercettare fondi del piano di resilienza. Il finanziamento dello stir prevede non solo il sito di trasferenza ma anche una integrazione per coprire l'intera produzione del ciclo rifiuto della provincia di Benamento quindi la dovremmo portare a 30.000 tonnellate. È stato finanziato il trasferimento dello stoccaggio dallo stir di Casalduni a Sant'Arcangelo Trimonte, si sta definendo la procedura quando parliamo di trasferimento dei rifiuti, alcuni saranno trasferiti a Sant'Arcangelo, altri secondo me caratterizzati come rifiuti speciali andranno al termovalorizzatore. Dico che si sta chiudendo un cerchio, un cerchio di virtuosismo se tutti lavoriamo per definire in maniera razionale questo ciclo rifiuti della provincia di Benavento. Adesso più che mai non possiamo più immaginare di fare ancora gestione di discariche post-mortem che è solamente un peso per i cittadini della provincia di Benavento. Questo deve subito essere operativo, la trasferenza per evitare anche la sfereguazione che tutti i comuni vanno incontro nel periodo estivo e ci vuole un grande grande lavoro. Io dico qua come provincia il grande lavoro che abbiamo dovuto fare per il finanziamento dello stir, per il trasferimento, il finanziamento del trasferimento dell'Ecoballe a Sant'Arcangelo Trimonte e il definitivo trasferimento anche di toppa infogata per la Danimarca. Diciamo che stiamo mettendo in sicurezza un territorio. Adesso il grande lavoro passa al piano d'ambito, all'ente d'ambito perché la normativa lo prevede e la provincia niente, trasferirà la competenza all'oro e non trasferirà un problema ma credo quasi una definizione del sistema che va messo sulla regime. Poi il lavoro dei subampiti e quant'altro non è che voglio entrare, però Napoli ne ha due, non penso che ne possiamo immaginare bene, quindi andremo a creare ulteriori problemi. Io dico il giusto per rendere più agevole anche un servizio per come si presenta la nostra provincia, però dobbiamo essere molto curati e molto razionali.